Il Consiglio dei Ministri è stato celebrato qui perché all'indomani della tragedia volevamo dare un segnale simbolico e concreto. Lo ha detto la Premier Meloni arrivata a Cutro per il Consiglio dei Ministri che si è tenuto dopo la tragedia dei migranti avvenuta il 26 febbraio a steccato di Cutro. Simbolico perché è la prima volta che un Consiglio si è celebrato sul luogo della tragedia. Non potevamo rispondere alla strage senza dare un segnale concreto perché noi siamo il Governo, il nostro compito è trovare soluzioni ai problemi. Penso che il modo migliore per onorare le vittime è fare quel che si può fare affinché non si vadano a ripetere tragedie come queste. Diamo il via libera ad un decreto legge che affronta la materia per ribadire che siamo determinati a sconfiggere la tratta di essere umani. Trafficanti di vite umane che sono i responsabili di questa tragedia la nostra risposta è maggiore fermezza. Una targa è stata posta all'ingresso del Comune in memoria delle vittime. Volevamo dare un segnale di vicinanza alle popolazioni colpite dai flussi migratori un segno tangibile tramite atti concreti. Siamo determinati a sconfiggere la tratta umana degli scafisti. Combattiamo la schiavitù del terzo millennio. Abbiamo voluto apporre all'ingresso del Comune una targa in memoria delle vite perché il ricordo non sia semplicemente un fatto transitorio. Ha inoltre sottolineato la Meloni. La nostra linea in termine di immigrazione è combattere questi criminali che si sono fatti pagare fino a 9.000 euro per mettere queste persone su una barca. Pene e reati legati alla tratta di essere umani saranno aumentate ed è stato inserito un nuovo reato relativo alla morte di una persona a seguito di tratta con una pena fino a 30 anni di reclusione.